Rinaldo Melucci, il sindaco di Taranto, si vede davvero poco, pochissimo in città, non gira la città e allora ho deciso attraverso questa immagine di portarlo in giro in modo che almeno virtualmente possa vedere quella che è la situazione di degrado in cui versa la città. Lo porteremo infatti nelle zone più critiche e magari i cittadini potranno così fargli delle domande. Ci troviamo per esempio, iniziamo da oggi, da via Garibaldi, dinnanzi al lungomare della città vecchia, i giardini Garibaldi. Caro Rinaldo, vedi un po' come si trova la città, guarda un po' i cassonetti che sono completamente pieni e quindi i cittadini trovandoli traboccanti non hanno altra opportunità che lasciare conferire i rifiuti accanto. Non è certo colpa dei cittadini, vero Rinaldo? Ma Rinaldo tu stai dicendo, tu hai detto che stai seminando la rinascita, che il meglio deve ancora venire? Aspettate un attimo, aspettate, sentite cosa dice Rinaldo. Un attimo solo. Questa è una città dove invece c'è ordine, c'è pulizia. Direbbero a Napoli, stai pazziando? Stai scherzando? Hai detto che la città è ordinata e pulita? E allora questi cassonetti e questi sacchetti qui, chi li ha messi? Babbo Natale? O ci stiamo inventando qualcosa? Rinaldo ti porteremo in giro per la città, così visto che tu non la giri, in un certo qual modo ti renderemo partecipe di questa rinascita che tu stai seminando. Una rinascita, caro Rinaldo, che però solo tu trovi, guardi e racconti. Grazie a tutti.